Bentornati ragazzi sul canale di Gioke Next Gen, siamo qui oggi con il quarto episodio della Ramsey Death Challenge Allora ragazzi, nello scorso episodio Ramsey ha fatto un gol, quindi ha chillato il suo compagno E questa è la formazione, quindi ha praticamente chillato Ivanovi, il terzino destro E al suo posto ha messo lui del Tottenham, che si chiama Trippier Non lo conosco, non so chi cazzo sia, comunque è il terzino destro del Tottenham E quindi ragazzi, questa è la kill che ha fatto Ramsey, vedendo le potenziano ancora di più la squadra Quindi vedremo oggi quanti giocatori, e se riuscirà a chillare qualche altro giocatore della sua squadra Vi ricordo ragazzi che quando arriveremo ad avere tutti i giocatori bronze, solo Ramsey, oro o raro Andremo a fare un vero e proprio torneo Quindi continuate a seguire e supportare questa serie con i vostri like, che per me sono fondamentali Ci vediamo fra poco con il match di oggi Ok ragazzi, allora questa è la formazione del nostro avversario, vedete è una formazione un po' che intesa Comunque vedo Gervinio, Biabiani, Insigne, Felipe Anderson, Salah Quindi buon John Hart e gli altri non li ho riconosciuti Quindi è una formazione basata molto sulla velocità Quindi devo stare attento, Ramsey deve cercare di fare kill Perché la difesa non è sembrata imperforabile Vediamo subito comunque come va questa partita Attenzione che qua è sbagliata ancora Andiamo subito a dentro per Ramsey Troppo lunga la palla, di pochissimo Attenzione qui a Gervinio, se ne va da solo Difesa schierata malissimo Il tiro dell'avversario che passa in vantaggio Ramsey che scatta Eccolo qui, Ramsey può fare la sua prima kill Fuori, incredibile Cosa si è mangiato Ramsey ragazzi La prima kill poteva essere questa Ballone messo fuori Attenzione a Blind Attenzione a Blind che se ne va Blind allora Ballone all'indietro, dato per Ramsey fuori Incredibile, non so se No, era Terry scusate, non era Ramsey Attenzione ancora, I barbo Per Ramsey, che non ci pensano altro il tiro Deve intervenire Joe Hart, Ramsey ancora vicissimo al gol Ballone messo dentro Colpo di testa E, pallone ancora nostro Proviamo il tiro Porta libera fuori Non ci credo Era uscito con Joe Hart Ah, c'è stata anche deviazione Caila mette dentro Attenzione, pallone ancora lì Rimane lì la palla Pareggio, ma non è stato Ramsey Kolarov Uno pari Ma ragazzi ovviamente A livello di The Challenge non cambia nulla Soltanto il gol del pareggio Ma Ramsey non ha killato Quindi tutto come prima Pallone dentro Ramsey può killare Ancora Hart Non gli permette di fare la kill Pallone dato bene dentro Persona Don Ma da dentro Barclay Due a uno Ma Ramsey non ha ancora segnato Due a uno Barclay ragazzi Però non c'è stato il gol di Ramsey Quindi ancora niente cambia sulla The Challenge Ramsey sarà sicuramente nervoso Perché non riesce a segnare lui Dunque bella azione Guardate qui Bel passaggio Bel tiro di Barclay Ramsey Ramsey Ancora lui Ramsey Se ne va Ramsey 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 Fermato Fermato Ramsey Ragazzi che non ha nelle velocità Una delle sue caratteristiche principali Insigne dentro Verso Gervinio Prova lui ora Il contrattacco Qui il tiro Il pareggio Bellissimo Con Gervinio Ho fatto tutto da solo I miei difensori Non l'hanno fermato Molto lenti Però Ripeto Non cambia comunque Nulla Le abbiamo tolto Qua si palla Finisce la partita ragazzi Allora Due pari Nessuna Kill per Ramsey Ok ragazzi Allora Due pari Quindi tempi supplementari Vediamo se Ramsey Almeno nei supplementari Riuscirà A Insomma A segnare Aaron Ramsey Vediamo se riesce A fare un gol Su punizione Attenzione Ramsey Il tiro Era indirizzata in porta Ma sul palo Troppo di Joart I ragazzi Pallo dell'avversario Dopo uno stralom I miei difensori Saltati tipo Birilli Ibarbo Dentro Ramsey Ha agganciato bene Ramsey Gol Ramsey Ragazzi Ramsey Ha fatto La kill Anche in questo episodio Eccola qui La kill di Ramsey È arrivata ragazzi Nei tempi supplementari Ma c'è sempre arrivata La kill No E c'è il pareggio Ma è Vabbè ragazzi Lo so che non conta Però è scandaloso Attenzione Il pallone è ancora dentro No È ancora Giurado Che prova ora Lui il tiro Miracolo Di Joart Barkley Ramsey Ramsey E vince due contrasti È la palla Proprio di carambola Su Joart Che è riuscito benissimo Che ragazzi Allora La partita è finita Ovviamente Il gol Eventuale di Ramsey Su calcio di rigore Non vale Come the challenge Mi faccio finire Solo per vedere come va Insomma Il primo battitore È proprio lui Però vi ripeto Non vale il gol Su calcio di rigore Ecco qua Ha segnato Però non vale Si avvicina Attenzione qui E mi ha spezzato Anche lui Uno pari Vediamo come va a finire Questa partita Ragazzi Rondon Attenzione Rondon Parata Niente da fare Non sono forte Su battere i calci di rigore Ragazzi Però Mignolet qua Para Grande intervento Barkley Barkley Attenzione Barkley Tiro centrale Niente da fare E sbaglia Anche lui Con Gervinio Però Attenzione Giurato Ora Che parte Giurato Tiro Grande gollo Bel Tiro Di Giurato E qui Para Ancora Mignolet Attenzione Rigore Decisivo Di Blind Blind Vediamo Blind E para Con Joart Ancora Rigore Decisivo Però qui Ragazzi Attenzione Qui sicuramente Tira centrale E non riesco Però a pararla Nulla da fare Andiamo qua Se Barbo Riesce a killare Sì Gol di Barbo Gol di Barbo Che ora Pressione tutta Su di lui E qui c'è Il gol suo Andiamo Kolarov Attenzione A Kolarov Ragazzi Kolarov Al tiro Gol Di gol Infiniti E c'è C'è ancora Il gol Da parte Sua Kail Kail Al tiro Ragazzi Kail Gol Non sbagliamo Non sbagliamo Più Incredibile C'è il gol Ancora Da parte Sua John Terry Signori John Terry Parata Ragazzi Qui perdo Il calcio Di rigore Perché Perché ora Non riuscirò A parare Questo calcio Di rigore Quindi nulla da fare E infatti Ok ragazzi Allora Abbiamo perso Il calcio di rigore Come avete visto Dopo tanti rigori Abbiamo perso La partita Però Però Quello che conta È che Ramsey Ha fatto Una kill Quindi ragazzi Nel prossimo episodio Vedrete La squadra Con ancora Un giocatore In meno Killato Da Ramsey Ok ragazzi Come sempre Se l'episodio vi è piaciuto Vi invito lasciare un like Commentare Condividere Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Suggerite i vostri amici Noi ci vediamo Al prossimo video Con la Ramsey Death Challenge Qui da un giorno 83 Tutto Bella